Onorevole Cominardi. Grazie Presidente, ringrazio anche il Perfetto per la disponibilità. Vorrei fargli una serie di domande. Innanzitutto vorrei chiedergli se è considerato il fatto che la nomina, nell'arco della nomina, sono passati un mese e dopo un mese già è venuta una decisione che è estremamente importante, cioè quella di definire dove questo depuratore deve essere collocato. Se non gli sembra, alla luce anche di una serie di elementi, una scelta un po' frettata. Oltre a questo, ci apprendiamo sia dagli articoli di stampa, ma in parte mi pare anche da questa sua audizione, che è stato richiesto il supporto di una serie di università, quindi l'Università di Brescia, Trento e Verona. Però occorre ricordare che già l'Università di Brescia è stata coinvolta da Acqua Bresciana per lo studio di fattibilità e quindi, però anche una questione di opportunità, forse non era meglio indirizzare questo tipo di supporto anche verso enti, università esterne a questi contesti, definiamolo così. Quindi mi chiedo, ma siamo sicuri, io non lo sono affatto, anzi, tutt'altro, che l'opzione Gavardo Montichiare fosse l'unica percorribile, questo è sicuramente un tema. E poi, in merito all'urgenza, e qui giungo al termine, il Prefetto ha dichiarato che vi è una necessità di intervenire con un'urgenza per la questione della tenuta delle sublacquali. Risolta che c'è proprio uno studio di Acqua Bresciana che certifica che le condotte possono durare fino al 2035 con ulteriori interventi per ancora dieci anni. Quindi di questo l'Università, in particolare la di Brescia, è stata informata? Ringrazio anche tutti i comitati e le associazioni presenti. Allora, com'è nata questa situazione? La conosciamo tutti, che è nata attraverso questo voto di fiducia che appunto ha portato a questa norma. È giusto anche ricordare, in effetti, in questa sede che con il collega Zolezzi fu presentato un emendamento per lo stralcio di quell'articolo. Poi purtroppo il Governo è andato avanti per la sua strada. A me sembra che in questa Commissione comunque ci sia una certa sensibilità, una condivisione quantomeno generalizzata sulle perplessità complessive. Per cui io mi chiedo, chiedo alla Presidente, chiedo scusa perché io sono ospite di questa Commissione, perché sono di Commissione a lavoro, però giusto per creare anche un po' di discussione, chiedo anche un'opinione in tal senso ai comitati e alle associazioni sulla eventualità di chiamare in audizione il Ministro competente, Cingolani. E poi come Commissione parlamentare c'è chiedere al Governo un ripensamento concreto, una rivalutazione di questo percorso, perché altrimenti rischiamo che tutta questa discussione si esaurisca qui.